Della vicenda di Francesco e Francesco, sposi in Portogallo ma ancora celibi in Italia ed in attesa di trascrizione del loro matrimonio all'estero, si è immediatamente interessato Angelo Rossi, consigliere comunale di Oraghinelli. Rossi si è infatti recato personalmente a chiedere chiarimenti circa la situazione di fronte alla quale si era trovata la giovane coppia retina, ossia un vero e proprio percorso ad ostacoli verso il riconoscimento della loro unione, tornando con buone notizie per Francesco e Francesco. Posso garantire che il Comune di Arezzo è in regola con tutta la legislazione perché dal punto di vista degli unioni civili tutta la modulistica si trova online e è disponibile per essere scaricata e effettuata tranquillamente. Per quanto riguarda le trascrizioni posso annunciare che la trascrizione della loro unione fatta in Portogallo, quindi il registro è presente, verrà fatta domani stesso. Il problema di questi signori è stato un problema di avere a che fare con la burocrazia in Italia, nel senso che quando arrivano delle nuove legislazioni è sempre veramente difficile la parte della burocrazia adeguarsi in tempi velocissimi a tutto questo. Loro hanno avuto un ritardo una decina di giorni complessivamente in tutta questa faccenda e purtroppo fa parte delle regole normali che valgono sia per gli eterosessuali che per i gay. Tutti coloro che si sono sposati o si sono uniti all'estero dove era riconosciuto già questo istituto giuridico potranno tranquillamente recarsi all'ufficio unico dove c'è il registro per le trascrizioni portando la documentazione e verrà trascritta la propria unione che era stata effettuata all'estero. Tutto pronto quindi per le trascrizioni di matrimoni celebrati all'estero ma anche per quanto riguarda la modulistica per le unioni civili. Il comune è pronto, tutta la modulistica è pronta, devono solo fare richieste e aspettare i tempi tecnici naturali, normali che mi pare che 15 o 30 giorni insomma.